Una sala trecentesca gremita di alunni delle scuole eugubine di ogni ordine grado ha fatto da suggestivo corollario per inaugurare il nuovo progetto didattico di educazione ambientale per l'anno scolastico 2019-2020 Operazione 00 secco, licenza di riciclo Questo è il titolo di un'altra originale esperienza per impreziosire il ventaglio dell'offerta formativa di Gesenu per un progetto che parte dalle scuole prevedendo un'attività di miglioramento della raccolta differenziata attraverso il controllo ed il monitoraggio del rifiuto secco residuo al fine di ottimizzare la qualità del riciclo non solo a scuola ma anche a casa Quest'oggi abbiamo fatto sold out alla sala trecentesca abbiamo presentato il nuovo progetto didattico di sensibilizzazione a raccolta differenziata Operazione 00 secco proprio perché vogliamo cercare di ridurre il secco residuo presente sia nelle scuole che a casa quindi partiamo dal mondo scolastico che è un valido veicolo per arrivare poi alle case e alle famiglie chiediamo ai alunni di diventare degli agenti segreti in missione proprio per cercare di controllare la raccolta differenziata a scuola e ridurre la quantità di secco residuo Al fine di rendere più accattivante e interessante l'esperienza il progetto si ispira al mondo dell'agente 007 con gli alunni che dovranno diventare dei veri e propri agenti ecologici in missione per ridurre a scuola la quantità di rifiuto secco residuo prodotto e controllare che in classe vengano rispettate le buone regole di riciclo e raccolta differenziata ad ogni classe partecipante è stato consegnato di fatti il kit d'agente ecologico con le istruzioni utili a compiere la loro missione e a tutte le insegnanti che hanno aderito al progetto è stato proposto un incontro formativo con approfondimenti e curiosità sul mondo dei rifiuti un altro passo importante per un argomento come la raccolta differenziata dove l'amministrazione comunale ha lavorato alacramente per ottenere numeri importanti a livello regionale e allargando il servizio a quasi tutti il comprensorio e questo è proprio una parte imprescindibile del progetto se noi non coinvolgiamo i nostri cittadini già dalla più tenera età e non contribuiamo a farli crescere proprio con la cultura e la consapevolezza che le loro azioni hanno una conseguenza sull'ambiente sulla terra che abitiamo sono tutti dei procedimenti vani sono delle cose che vedono come imprescindibile il rapporto con le famiglie e la cittadinanza in generale però ecco da quelli che sono i risultati possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti dal 2 dicembre parte anche con le frazioni di Carbonesca e Colpalombo e quindi ecco tutte le frazioni agglomerate principali saranno servite mancano le frazioni più lontane quindi Camporeggiano-Burano per le quali vogliamo studiare delle cose ad hoc che sono quasi pronte è evidente che le grandi questioni mondiali sull'ambiente non stanno nelle nostre mani però noi possiamo evitare di gettare i mozziconi di sigaretta in terra le gomme da masticare, di smaltire bene i rifiuti, di fare la differenziata in maniera corretta e già questo produce economie, riciclare significa guadagnare coi rifiuti e non sperperare soprattutto significa tutelare meglio l'ambiente noi abbiamo portato la differenziata a circa il 70% è un grande balzo in avanti quasi tutto il territorio comunale fa il porta a porta e questo credo che sia un traguardo ragguardevole che deve spingerci a fare ancora meglio e ad innalzare ancora di più questa quota grazie